A Siviari o si coglie questa occasione o è game over. La pensa così il presidente della provincia Stefano Baccelli che rompe il silenzio una settimana dalla fine dell'inchiesta pubblica e precisa le sue posizioni. L'opera sa da fare, partendo dal già finanziato asse nord-sud, ma si possono pensare delle modifiche, anche per recuperare risorse per opere compensative per il territorio, da via all'Europa al verde pubblico, dalle pittro ciclabili alla mitigazione dell'impatto ambientale. Ritengo che essere per la conservazione dello status quo significa essere contro l'ambiente, contro la qualità della vita. Il secondo punto è che ritengo che ci siano tutte le chance per migliorare il progetto, dalla fase di progettazione preliminare a quella di progettazione definitiva. E il terzo punto è che ritengo assolutamente che tutto questo debba essere fatto insieme, insieme a Comune della Piana, insieme alla Regione Toscana. Possiamo realizzare un progetto convincendo l'ANAS a fare delle opere ulteriori di mitigazione ambientale, a risparmiare risorse economiche e quindi per un verso a realizzare le nuove infrastrutture che è compito dell'ANAS stesso, ma anche a migliorare le strade esistenti. Il Presidente, che fa un appello a tutti gli enti a lavorare insieme per ottenere il doppio risultato di concludere l'opera e allo stesso tempo di renderla la migliore possibile, fa anche già delle ipotesi di modifica. Due sono in particolare le possibilità di risparmio rispetto al progetto preliminare, che sono quello dell'eliminazione del sottoattraversamento dell'Acquadotto del Nottolini e l'eliminazione del Viadotto di Pieve San Paolo. Sì, entrambe queste opere sono troppo invasive da un punto di vista di assetto idrogeologico e in generale di impatto ambientale. Trovando soluzioni alternative che ci sono, ad esempio quello di una terza corsia dinamica sulla Firenze mare o di un intervento più minimalista che recuperi anche l'acquadotto del Nottolini, significa risparmiare qualcosa come 50 milioni di euro. Lo scopo è quello, lo ribadisce, di concludere l'intero sistema tangenziale, Asse e Stoves compreso, e di concludere la rete di grandi opere per la mobilità locale che passa dal raddoppio della ferrovia, dallo scalo merci sul frizzone e dal ponte sul serchio. La strada è aperta, ora si attende la conferma del finanziamento del Cipe, unica questione in dubbio la data dell'apertura dei cantieri, ma questo non è di competenza degli enti locali e per il dibattito e il confronto di tempo ce n'è ancora molto.